Ciao a tutti, il motivo che vi presento oggi è questo bellissimo motivo a coste traforato è un motivo ovviamente molto estivo, molto primaverile diciamo che possiamo utilizzare come più vogliamo possiamo anche utilizzarlo per delle stole oppure delle sciarpe, dei maglioni, delle canotte estive ma anche per dei copricostume per esempio proprio perché è molto traforato quindi sul davanti si presenta in questo modo e sul dietro si presenta così allora è un motivo semplicissimo da fare e si realizza in soli due ferri quindi è un multiplo di 4, quindi montiamo sul ferro 4 maglie che ovviamente andiamo a ripetere, in questo caso io ne ho montate 32 più ovviamente le solite 4 divivagne che vanno a formare il bordo e come vi ho detto in altezza si realizza in due soli ferri andiamo a vedere come si procede allora ho montato sul ferro 32 maglie più le 4 di vivagno che andranno a formare il bordo il motivo è formato da 4 maglie quindi ovviamente mettendone 32 le ho moltiplicate andiamo a fare un solo motivo e andiamo a fare il primo ferro vi lascio qui sopra il link che vi riporta al vivagno quindi andiamo a fare vivagno e inizia il motivo che andiamo a ripetere diminuzione semplice quindi spostiamo una maglia sul ferro di destra senza lavorarla lavoriamo a diritto la seconda maglia e accavalliamo la prima maglia sopra la seconda in questo modo due gettati quindi uno e due due maglie insieme a diritto questo è il motivo che noi andiamo a ripetere per tutto il ferro chiudo il ferro ovviamente con il vivagno il secondo ferro vado a fare due rovesci di vivagno quindi uno e due e inizia il motivo quindi due rovesci uno quindi il primo gettato va lavorato a rovescio il secondo gettato lo lavoriamo a diritto quindi un diritto e chiudiamo con un rovescio ok e questo è il motivo che andiamo a ripetere ovviamente sul dietro del lavoro naturalmente chiudiamo con due maglie a rovescio di vivagno ecco qua il motivo praticamente è terminato per ripetere dobbiamo ripetere tranquillamente dal ferro numero uno al ferro numero due vi ricordo che sotto al video vi lascio il motivo per iscritto e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao